E pazzo Vladimir Putin? Questa è la domanda che realmente si pone il rotocalco turbomondialista e aziendale La Repubblica, il quotidiano della famiglia Elkan, il quale pone in realtà una domanda che in tanti hanno posto, anche il Corriere della Sera diversamente ha sollevato questa questione. Una domanda che in effetti rappresenta il non plus ultra della psicologizzazione del conflitto e perciò stesso della riproposizione di visioni manicomiali, fumettistiche, caricaturali che hanno come unico risultato quello di rendere incomprensibile ciò che sta avvenendo. Perché infatti se si dice, come i più fanno, che Putin è un pazzo che la mattina si sveglia e decide di invadere l'Ucraina, perciò stesso si impedisce ogni comprensione, che non vuol dire giustificazione, di ciò che sta accadendo. Si nega il principio della storicità, si nega la possibilità di intendere ciò che sta accadendo e si riduce tutto alla scelta di un folle che l'imperio ha deciso di invadere l'Ucraina. Questa è l'antitesi di ogni possibile comprensione razionale. Viceversa occorre seguire la pista del logos e per seguire la pista del logos, l'abbiamo già detto, non giovano sicuramente categorie di tipo psicologico come quelle della follia presunta o reale di Vladimir Putin. La realtà è un'altra, che questa guerra, come più volte ho sottolineato, nasce da lontano. Nasce essenzialmente fin dal crollo dell'Unione Sovietica, da quando la Nato e gli Stati Uniti irresponsabilmente hanno scelto di espandersi verso Oriente andando a occupare gli spazi post-sovietici e, de facto, accerchiando la Russia di Putin con basi militari e con paesi di fatto atlantizzati. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata proprio questa, l'idea di un'Ucraina che entrasse anch'essa nella Nato e nell'Unione Europea, di fatto portando la Nato stesso fino alle porte di Mosca. Ecco come vanno in realtà spiegati i fenomeni, non certo con categorie psicologiche di quel tipo.